Grande fratello Vip, pace fatta tra Aida e Cristiano torna il sereno tra Cristiano Malgioglio e Aida Iespica nella casa. Del grande fratello Vip, la showgirl in puntata si era schierata con Jeremias, tradendo così il paroliere. Lui sul momento non l'aveva presa affatto bene ma, dopo averci dormito su, cerca un confronto con l'amica. «Abbiamo chiarito, la cosa importante è che la nostra amicizia va oltre queste cose» dice Cristiano mentre l'abbraccia. Aida gli ricorda che i meccanismi del gioco non riflettono la vita reale. Ma per lui il fatto di averla sostenuta quando la sua storia d'amore naufragata dimostra quanto ci tenga a lei. Proprio per questo rimasto molto deluso dal suo voltafaccia. «In quel momento io non stavo giocando. Ho avuto una specie di rabbia» dice il paroliere. In puntata, messa di fronte alla scelta, la Iespica aveva deciso di schierarsi con Jeremias e non con lui. «Non ne parliamo p. Un gioco. Ma non ti stavo mandando in nomination Cristiano. Tenta di spiegargli lei». «Altro su MSN. Un ultimo bacio a Jeremias. Mediaset. Sponsorizzato. Risparmi a il 35%. Xbox One S da 500 GB o 1 TB l'ombra della guerra più secondo gioco gratis. A scelta tra FIFA 18, Call of Duty VWI o Forza Horizon 7. Compra maggiore maggiore». «Guardia la guerra più secondo gioco gratis».